La telecamera nel bagno del boss Salvatore Lopiccolo sarà spenta! Ecco, le vedete? Adesso il montaggista vi consente di vederle più volte. No, non è una nuova versione del Grande Fratello. Sono invece le immagini in bianco e nero delle telecamere che registrano 24 ore su 24 i movimenti del capo dei capi. Sì, è la cella del carcere di Opera, appena fuori Milano, dove è detenuto Salvatore Riina. E lui, Totò Ugurtu, lo si intravede, spiato implacabilmente dall'obiettivo. Una telecamera è anche piazzata sulla toilette e forse adesso non sarà più possibile. Infatti, nello stesso carcere milanese di Opera è prigioniero un altro Totò. È Totò il Barone, al secolo Salvatore Lopiccolo. Ebbene, la telecamera sarà spenta nel bagno di Lopiccolo. Infatti, il Tribunale di Sorveglianza di Milano, recependo quanto sentenziato dalla Cassazione, ha annullato il regime di videosorveglianza totale. Quindi, due telecamere in necella ed una nel bagno. Il boss palermitano, detenuto dal 5 novembre del 2007, non sarà più immortalato nella sua toilette. Così come ha più volte invocato uno dei suoi difensori, l'avvocato Maria Teresa Zampogna. Sancito il principio che in carcere occorre evitare trattamenti degradanti e inumani. Dal penitenziario di Opera rispondono che la telecamera nel bagno è un sistema di sorveglianza già meno invasivo rispetto invece alle feritoie. Quindi le fessure da dove scrutano gli occhi umani. Nel frattempo l'avvocato Zampogna annuncia battaglia anche contro la luce accesa giorno e notte per i detenuti a 41 bis. Un metodo già segnalato dall'ONU, le Nazioni Unite, nel caso di Guantanamo, come una tortura.